ciao a tutti e ben ritrovati sul mio canale oggi nuovo video creazioni e poi nell'info box troverete tutti i vari link utili che vi rimanderanno ai video allora parto subito col mostrarvi i bracciali dell'estate realizzati con i fiori nei colori dell'acqua del mare della sappia eccolo qua qui alternate fiorellini ci sono delle gocce mentre nell'altro delle perle i fiorellini poi sempre tema fiori ho realizzato questi orecchini che può essere montato anche a forma quadrata e poi ci sono anche questi fiorellini piccolini pensati per una bambina magari sono molto delicati e poi per ognuno ci sono dei video poi siccome sono piaciuti tanto gli orecchini square dalla forma quadrata li ho realizzati anche con la nappina e poi dalla forma quadrata ho realizzato anche questi che avevo realizzato in passato a forma romboidale questi sono gli orecchini union 2.0 poi in collaborazione con do it to vi faccio vedere le creazioni allora questi semplici orecchini a lobo che richiamano sempre dei fiorellini realizzati con mobiduo perle rocai poi ci sono questi angioletti dubble fas questa è una parte questa è l'altra poi quale preferite di più e poi c'è anche questo bracciale pensato per uomo con le perline rice che io adoro e poi si può fare anche come cavigliera infatti non riuscivo a trovare il modo di fare una cavigliera semplice che mi piacesse e poi l'ho realizzata con le perline rice e devo dire che sono fantastiche si prestano a tante cose a fare delle collane delle catenine per mascherina per occhiali sono fantastiche e ci sono in diverse colorazioni e poi vi ricordo che sul sito potete usufruire del codice sconto mari 35 quello che vedete qui poi ci sono gli orecchini perle senko qui c'è il perno sul retro della ginkgo e nello stesso video l'avevo già fatto il video dove avevo incastonato il perno sul retro della ginkgo però l'ho realizzato nuovamente e poi nello stesso video trovate anche la parte sottostante di questi orecchini che ho dedicato appunto al sito per le senko perché per il loro compleanno grazie a loro sono riuscita a vincere un buono spesa da spendere sul loro sito e quindi con i loro materiali diciamo ho voluto omaggiarli con questi orecchini mi sembrava il minimo perché ho scelto davvero tantissime cose tantissime belle cosine poi se vi siete perso il video in cui vi ho mostrato i materiali vi lascerò anche quello nell'info box e queste ginkgo la colorazione la finitura è davvero spettacolare poi ho rifatto due miei progetti questi qua ecco gli orecchini ice green 2.0 e volendo anche qui si potrebbe fare a perno come uno vuole ed eventualmente dovete seguire il tutorial di degli orecchini per le senko poi ci sono in cascata 2.0 sono anche questi double fass questo è una parte questa una parte e poi c'è il davanti quindi per una collana andrebbe benissimo si può indossare double fass per l'orecchino invece bisogna scegliere voi quale parte preferite poi qui al posto della perla si può tranquillamente inserire una goccia poi ci sono questi orecchini allora di questo progetto ne ho realizzato l'ho fatto in diverse salse al lobo come orecchino pendente come ciondolo per cellulare e poi ho realizzato un video questa è l'incastonatura se poi continuate vi esce il fiorellino però mi sono fermata qui ho pensato potrebbe essere utile per chi vuole incastonare urriboli da 10 vuole un orecchino semplice quindi ho realizzato il video qui ho incastonato urriboli da 10 appunto quale vi piace di più poi infine allora c'è questo cuore era un progetto che avevo realizzato tanto tempo fa in collaborazione con bit park e poi sempre in collaborazione con bit park l'ho ripreso e l'ho rifinito con l'ero kyle ne ho fatto una catenina e poi ho realizzato in video in cui vi ho mostrato come creare con il cavetto interamente con il cavetto d'acciaio uno strap phone oppure e farne un doppio uso e agganciarlo alla pochette quindi l'ho realizzato in questo modo e poi ne ho fatto anche uno strap phone personale e vi dirò attaccato alla pochette è molto comodo soprattutto se magari si tiene in borsa magari non si trovano mai anche la presa è molto semplice se c'è questo si può portare anche appunto al di fuori della borsa normalmente con questo tanto è indistruttibile quindi queste sono le mie creazioni spero vi siano piaciute io vi saluto e al prossimo video ciao a tutti